Esserci sempre è questo il motto per il 167esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. La cerimonia si è svolta a Recanati in piazza Leopardi alla presenza degli appartenenti della Polizia, dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato e di numerose autorità civili, religiose e militari. Durante la cerimonia sono stati consegnati gli attestati di encomio e di lode al personale della Polizia di Stato che si è distinto in operazioni di particolare rilievo nel corso dello scorso anno. Lo slogan è esserci sempre ma è essere vicino ai cittadini della provincia di Macerata, essere vicino all'ora perché meritano tanta sicurezza, meritano ogni attenzione perché in ogni società dove c'è sicurezza, c'è legalità c'è anche benessere. Gli eventi che hanno colpito il tessuto sociale della provincia di Macerata sono eventi straordinari ed eccezionali, irripetibili, che potevano verificarsi in qualsiasi provincia italiana. Noi come Polizia di Stato abbiamo dato una risposta concreta con arresti, con la conquista del territorio che la criminalità organizzata aveva preso e noi abbiamo allontanato da Macerata i cittadini nigeriani che avevano tradito la fiducia del tessuto sociale di Macerata. Abbiamo provveduto naturalmente all'arresto di queste persone, al sequestro di sostanza stupefacente e abbiamo reso la città libera, sicura e tranquilla come lo è sempre stata con cittadini operosi e accoglienti. La città della paura è diventata la città delle risposte. Sono stati anche premiati gli alunni dell'Istituto Badaloni di Recanati e della scuola Anna Frank di Macerata, vincitori a livello provinciale della seconda edizione del concorso Pretendiamo Legalità, a scuola con il commissario Mascherpa. I giovani sono il futuro della nostra nazione, della nostra patria, quindi a loro va rivolta tutta la nostra attenzione perché da loro dipende il futuro delle nuove generazioni, quindi dipende il futuro della nostra nazione e quindi a loro va rivolta l'attenzione massima e io l'ho dimostrato in tante occasioni. Ulteriore omaggio per i ragazzi, il gioco offerto dalla famiglia Clementoni. È partito tutto da una collaborazione con la Polizia di Stato che abbiamo organizzato un gioco sul detective, quindi un tema che è molto caro ai bambini, che continuiamo a divulgare anche nel mercato ma per far conoscere anche la Polizia di Stato e tutto quello che viene attraverso la loro opera e i grandi risultati che danno il loro operato.